Bella raga sono Flane e bentornati, siamo qui oggi su Pokemon Go, innanzitutto c'è il padre eterno dietro, non manchiamo ogni certo di rispetto altrimenti ci tira le ciabatte Siamo qui oggi su Pokemon Go perché voglio mostrarvi nei 10 Pokemon migliori in base all'IV, l'IV sarebbe praticamente l'indice che stabilisce la perfezione di un Pokemon che va da 0% a 100% Che è quel valore che stabilisce se un Magikarp è buono o è cattivo, cioè non è come il pesce al mercato che gli guardate l'occhio Vi lascerò anche in descrizione un link per calcolare l'IV dei vostri Pokemon e questo in pratica determina un po' l'attacco, la difesa e la vita finale di questo È proprio quello che ci vuole Che poi non è realmente una top 10, è una top 9 perché al di sotto di questi ne ho tipo 7 con lo stesso IV Stavano lì tutti arrivino due palle come il Cocomera del Cocomera Iurlante che di solito si trova ai bordi della strada Al nono post abbiamo lui, uno dei migliori della mia squadra, Wigglytuff, uno casomai tra i migliori, può avere Dragonite, Blastoise, Charizard, non lo so Gheridos addirittura Io no, io ho il bianco coniglio ma fa lo stesso E vede raga, questo coniglio che all'apparenza potrebbe essere pronto per il Salmi In realtà è un qualcosa raga di spaventoso Ha un IV del 94% E ha aumentato raga, può arrivare fino a un massimo di 2173 E direte, ok ma cosa avrà mai di particolare, c'è ci sono Pokemon che arrivano anche a 3000 di livello Il vero raga è che i suoi attacchi pestano come un fabbro con i cali sulle mani Il primo è Botta che vabbè non è che levi tanto Ma il secondo raga c'ha iper raggio Oltre che essere velocissimo con XS Insomma se volete metterlo in padella questo vi spara un iper raggio che insomma non è che vi fa fare una bella fine Però provateci perché deve essere anche buono Però fatelo col vostro, il mio non si tocca Adottiamo posto con la serietà di Donald Trump Abbiamo lui, Magikarp Penso di non dover neanche parlare di questo Pokemon In quanto proprio io darei la mia vita per i Magikarp Ho la voce Rauka, ragazzi, sono l'unico che prende il raffreddore ad agosto Oltre a averlo preso a giugno e luglio Anche agosto non potevo schivarmelo E lo credo bene Bene ragazzi, cosa avrà mai di particolare questa trota salmonata Questo Magikarp ha un IV del 95% Cioè, questo diventa uno di quei Geridos con i contropoglioni Tra l'altro c'ho anche un fottio di caramelle Magikarp Quindi ragazzi, se questo video raggiunge i 3000 mi piace Farò schiudere questo Magikarp Non lo so, casomai vado dentro in un fiume con gli stivali Ma questa non mi sembra una grandissima idea Ragazzi, facciamo così 3000 mi piace e faccio evolvere Magikarp A 5000 vado dentro in un lago con gli stivali E lo facevo volvere in mezzo al lago Una cosa spettacolare Gli attacchi di questo tonno da 8 kg sono strepitosi Il primo è splash Vabbè E il secondo è scontro Direte, questo pesce è praticamente inutile Sì ragazzi, però si diventa Geridos Capite che avete in mano un'arma più potente Del battipanni di vostra madre Quando gli dite che avete preso 2,5 in matematica Poi dipende dai gusti C'è chi preferisce il mattarello o il mestolo Il mestolo fa male Al settimo posto con un PL di 1719 Abbiamo lui Ebbene, questo semplicissimo Pinsir Che potrebbe sembrare tranquillamente un trinciapollo Ha un IV del 96%, quasi 97% Veramente ottimo ragazzi a depositarla nelle palestre Nel caso di conquista Voi tipo ragazzi, se conquistate una palestra in gruppo Mettete rispettivamente uno di acqua, uno di fuoco E lui finale Vi garantisco che non la tira giù veramente nessuno Ed anche sono Taglio Furia Che purtroppo non leva una sega E il secondo è forbice X Che anche questo non leva tantissimo Ma sommandolissime ragazzi Potremmo arrivare a fare un danno fino a 105 Quindi non lo scarterai del tutto E poi tra l'altro è uno dei pokémon preferiti dallo Chef Tony E come burro per Miracle Blade 3 In sesta posizione abbiamo lui Kingler con un PL del 621 XS sono solo 3 kg di granchio Il pescheria non fa neanche fortuna Ebbene, questo granchio ha un IV del 97% Sarebbe 96,98 circa Tra l'altro presa se sommati Può arrivare a levare fino a 125 E in quinta posizione abbiamo il mio preferito Proprio la mascotte della mia squadra Con un PL di 35 abbiamo lui Magikarp O meglio è rinominato da me Magikarp Così non lo confondevo con gli altri pesci E direte che cazzo Flayne Un altro Magikarp Quanti diavolo di pesci hai in questa classifica? E l'ultimo Vi garantisco che questo è il Magikarp più forte che ho Ebbene ragazzi Questo Magikarp oltre che avere un'espressione molto significativa Ha un IV del 97,53% Ora raga ditemi voi se io faccio diventare Geridos questa bestia Cosa potrebbe uscirci? Tra l'altro pesa anche 10 kg Quindi si vede che è proprio un pesce di importanza Vengo a dormire casa tua eh In quarta posizione abbiamo lui IV con un PL del 429 Ditemi raga qua sotto nei commenti quale evoluzione vorreste vedere su questo IV Ebbene cosa differenzia questo IV dagli altri Che ha un IV del 98,39% Come attacchi a azione che leva abbastanza E comete che non leva una sega vabbè Ci avviciniamo alla zona calda E con la medaglia di bronzo abbiamo lui Voltorb Oltre che avere abbastanza caramelle per farlo diventare un stupendo electrode Questo Voltorb ha un IV del 100% Raga questo Voltorb è perfetto Gli attacchi sono scintilla e scarica Con la medaglia di argenti invece abbiamo lui Con un PL del 439 XL proprio bello cicciottello Bello grosso proprio E come molti di voi avranno già capito Anche questo come Voltorb ha un IV del 100% E tra l'altro ha proprio le caramelle giuste che servono per farlo diventare un Raidon Quindi anche qui raga mi salto a fare una trivella coi fiocchi E finalmente siamo arrivati in gym al podio Siamo arrivati al numero 1 di questa classifica Abbiamo l'orgoglio della mia squadra Snorlax Con un IV pari al 100% Questo che è lo Snorlax Perfetto Tra l'altro raga è uscito da un nuovo di 10 km E mi domando come faccia a starci Un 2 metri di questo dentro un nuovo da 10 km Speriamo in perraggio Insomma va bene anche terremoto E' aumentato al massimo raga Questo Snorlax può arrivare fino a un massimo di 3135 Punti lotta In poche parole raga Ehm E' un vitello Ebbene raga si conclude con questa top 10 Che poi era una top 9 Scrivetemi qua sotto nei commenti Qual è il vostro pokemon più forte Quello con l'IV migliore E che dire raga Io direi che questo video possa terminare E qui se vi è piaciuto di lasciare Un mi piace o un commento Iscrivetevi al canale Se volete guardare la campagna Facebook e Instagram Se volete iscrivetevi nei commenti Come al solito E che direi raga Qui the flame dal nostro Snorlax Insomma molto bonaccione Dal padre eterno E' tutto Bella raga Me chiamo TJ He volto a mi ciudad Come se nota Que qui faltava ya Casi che non raga Conozco al barrio Ha matato a mi madre Balas del adversario Voy a vengarla con los Grove Streets Desde Ryder Peak Smoke hasta Sweet Grazie a tutti